I carabinieri della stazione di Polcenigo e dall'aliquota operativa della compagnia di Sacile nell'ambito dell'operazione Nettuno hanno eseguito tre misure cautelari in carcere messe dal GIP di Pordenone nei confronti di altrettanti soggetti resisi responsabili di svariati furti aggravati in ditte della provincia di Udine e Pordenone. L'indagine è stata avviata a seguito del furto messo a segno nella notte tra il 10 e 11 aprile scorsi in una ditta di Polcenigo dove sono stati asportati circa 5.000 contatori d'acqua in ottone del peso di 5.000 kg del valore complessivo di 50.000 euro. A distanza di alcuni mesi sono stati identificati gli autori. Si tratta di un albanese, 54 anni, di un suo connazionale di 44 e di un romeno di 48 anni, tutti residenti o dimoranti nella provincia di Treviso. Secondo l'accusa, la banda nel mese di maggio ha messo a segno numerosi altri furti a San Giorgio di Nogaro e Castions di strada. In circa due mesi di indagine sono stati ricostruiti sei furti, ricore furtiva per circa 200.000 euro e ingenti danni alle strutture.